Ha preso il via il terzo viaggio internazionale di Papa Francesco nella Repubblica di Corea sul tema Alzati Illumina. Due i pilastri del pellegrinaggio, la sesta giornata asiatica della gioventù e la beatificazione di alcuni martiri della fede cristiana, Paolo Jung-ji Kung e i suoi 123 compagni. Eventi che Papa Francesco ha subito messo a fuoco nel suo primo discorso incontrando le autorità coreane nel palazzo presidenziale. Trapassato e presente, il pontefice ha sottolineato il valore insostituibile nella società degli anziani, così come delle aspettative dei giovani ai quali bisogna offrire il dono della pace. Senza dimenticare i difficili trascorsi del paese e gli sforzi messi in campo per la riconciliazione nella penisola coreana, Papa Francesco ha detto che il mondo è stanco della guerra e che la pace non è semplicemente assenza di guerra ma opera della giustizia. Si tratta della perenne sfida di abbattere i muri della diffidenza e dell'odio ha proseguito promuovendo una cultura di riconciliazione e di solidarietà. La diplomazia, come arte del possibile, è basata sulla ferma e perseverante convinzione che la pace può essere raggiunta mediante il dialogo e l'ascolto attento e discreto, piuttosto che attraverso reciproche recriminazioni, critiche inutili e dimostrazioni di forza.